Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di bulkresizephotos.com Un servizio gratis che non necessita di registrazione, non dovete loggarvi, non dovete scaricare nulla, accessibile da tutti i browser che vi permette di ridimensionare una foto in risoluzione e peso, oltre a convertirla in un formato a scelta tra JPEG, PNG o WebP Cosa fare? Come funziona questo bulkresize? Andate su Google e salvatevi la foto che volete, ad esempio, questa che è 3840x2160 fate salva, ok. Adesso andate qui, scegli immagine, caricate l'immagine, qui potete scalarla in percentuale, scalarla in dimensione naturalmente più piccola la fate e meno qualità avete, dimensioni esatte, quindi potete decidere altezza e larghezza solo larghezza, solo altezza e potete impostare anche altri parametri andando su modalità esperto potete scegliere il formato immagine tra questi tre, potete settare la qualità dell'immagine, lo sfondo ed altri parametri una volta che avete deciso tutto, cliccate su inizio ridimensionamento e poi salvate A questo punto avete la vostra bella immagine modificata sul vostro computer potete rivedere le impostazioni, modificare un lotto di immagini, quindi più immagini insieme potete rimodificare la stessa foto, potete scaricare anche il programma se magari volete averla a portata di mano, altrimenti lo salvate nei preferiti avete l'icona qui accessibile ed è a disposizione in qualsiasi momento ripeto, è gratis, non dovete installare nulla, non dovete scaricare nulla non dovete loggarvi con alcun social, è accessibile da qualsiasi postazione vi allego comunque il link in descrizione per raggiungere questo servizio grazie a tutti